Su un oggetto di massa inerziale M, agisce, per un intervallo di tempo, delta T, una forza costante, F. Quale sarà l'effetto di questa forza sulla quantità di moto dell'oggetto? Per effetto della forza, la velocità vettoriale del corpo cambierà. Supponiamo che la velocità iniziale sia V1 e la velocità alla fine dell'intervallo delta T sia V2. La quantità di moto dell'oggetto non si conserva, perché l'oggetto non è isolato, essendo sottoposto a una forza esterna. Utilizzando il secondo principio della dinamica e la definizione dell'accelerazione, troviamo che la variazione della quantità di moto dell'oggetto è uguale al prodotto della forza per l'intervallo di tempo durante il quale la forza è applicata. Questo prodotto viene chiamato impulso della forza durante l'intervallo delta T. E la relazione che abbiamo trovato tra impulso e quantità di moto non vale soltanto per un singolo oggetto, ma più in generale è valida per qualsiasi sistema di particelle su cui agiscono forze esterne. Grazie. 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 Grazie.